buongiorno a tutti sono alberto mina sono international business development manager per via sat group oggi vorrei parlarvi di un modo di vedere la telematica un po diversa da quella attuale mi piacerebbe parlarvi dei nuovi orizzonti dell'assicurazione telematica nel ramo auto di come un approccio diverso a questa tecnologia si è in grado di cambiare il ritorno sugli investimenti fatti dell'assicurazione e di un progetto che ha lo scopo di creare un vantaggio competitivo di settore che favorisca lo sviluppo del ramo auto verso dinamiche di customer satisfaction partiamo dal punto più importante i clienti le aspettative dei clienti negli ultimi dieci anni sono cambiate molto si è passati da un'esigenza rispondente a un bisogno di copertura economica dei rischi a un'esigenza più emozionale quella di avere una sensazione di sicurezza e di poter contare su qualcuno in caso di necessità in questo le assicurazioni sono chiamate a creare dei prodotti con maggiore componente di customer experience e nel fare ciò i dati sono un tassello essenziale nel processo di sviluppo abbiamo letto negli scorsi mesi di partnership strategiche tra carmaker e assicurazioni carmaker che fondano assicurazioni tutto questo basando la loro value proposition su mobility as a service derivanti di dati originati dalle scatole nere installate proprio sulle loro auto e della costruzione di un set di servizi collegate alla mobilità le start up insurtech d'altra parte vanno verso opportunità legate specializzazione e la personalizzazione dell'offerta e l'innovazione dei canali distributivi facendo leva sulla loro capacità di sperimentazione ed adattamento dei prodotti in modo rapido infine si sente anche la pressione di gamma sul settore che sfruttano il loro posizionamento a monte del processo di acquisto e la conoscenza delle preferenze degli utenti per proporre soluzioni embed e sviluppare nuovi modi di concepire la mobilità vediamo quindi che il mercato assicurativo specialmente il ramo auto rientri nelle strategie di sviluppo e di altri settori e mi piacerebbe farvi riflettere su questo la telematica assicurativa nel nostro paese è tra quelle più sviluppate al mondo e se non adeguatamente gestita a livello di settore potrebbe essere utilizzata da operatori esterni come possibile leva d'ingresso mi spiego meglio i dati telematici raccolti dalle società di assicurazione sono un patrimonio sia dell'assicurazione che dell'assicurato che in linea teorica potrebbe richiedere una coppia un eventuale nuovo operatore potrebbe quindi sfruttare questi dati richiesti dall'assicurato per costruire un'offerta personalizzata da una parte e dall'altra ottenere con un minimo investimento un patrimonio di dati ricchissimo osservando questo contesto in via sat ci siamo chiesti se la telematica il patrimonio di informazioni che ne deriva sia di per sé un vantaggio competitivo per le singole assicurazioni oppure possa essere visto in modo più ampio come l'abilitatore per il settore assicurativo nello sviluppo di un vantaggio competitivo della nostra esperienza non è tanto il dato di per sé a essere un valore per l'assicurazione quanto la sua interpretazione la riflessione ci ha quindi portato a ragionare in termini di ROI e a pensare come un approccio di collaborazione sull'origination dei dati telematici possa portare benefici qualche anno fa la stessa strategia di condivisione dell'investimento è stata utilizzata nell'automotive utilizzando la stessa piattaforma su più modelli anche di case automobilistiche diverse in fondo le parti distintive del prodotto per il cliente sono quelle immediatamente visibili come la customer experience sia nell'acquisto che nell'utilizzo e la personalizzazione del prodotto alle sue esigenze dal lato delle assicurazioni sono invece i modelli pricing e come il dato viene elaborato che formano il vero core business allora perché competere su una parte che non è né core per il cliente né tanto meno per le assicurazioni se poi pensiamo che sfortunatamente per motivi che non sono direttamente controllabili da noi i clienti cambiano in compagnia gli investimenti fatti per conoscerlo meglio e per potergli offrire un prodotto più adatto alle sue esigenze vengono persi l'assicurato con la scatola nera ha accettato di ridurre la sua privacy per costruirsi una credibilità di fronte all'assicurazione l'assicurato è in fondo il proprietario dei dati e teoricamente come dicevo poc'anzi potrebbe richiedere i propri dati e un operatore insurtech potrebbe sfruttare il suo vantaggio guardando il sistema da questo punto di vista in viziat ci siamo chiesti se non potesse essere evitato se non fosse stato meglio scambiare all'interno del settore la conoscenza del cliente fatta fino a quel punto non si può impedire all'assicurato di cambiare assicurazione ma si può impedire di perdere i dati dell'assicurato e gli investimenti fatti semplicemente creando uno standard per lo scambio di un attestato di rischio telematico in questo frangente la collaborazione avrebbe lo scopo di creare questo comune standard che permette lo scambio di dati tra l'assicurazione garantendo allo stesso tempo spazio per la competizione sulle componenti di prodotto che contano di più con questo standard e il consenso della parte dell'assicurato si potrebbe creare all'interno del settore sistemi di remunerazione per lo scambio dei dati il nostro competitor dovrebbe darci una fee per l'accessione dei dati riducendo così la nostra perdita nell'investimento in questa slide potete vedere alcune delle variabili che possono essere inserite nel contenuto dell'attestato di rischio queste variabili poi possono essere elaborate da ciascuna compagnia in modo autonomo e con le proprie dinamiche avendo comunque un tracciato standard come punto di partenza parlando poi di norma sull'assicurazione telematica il legislatore aveva introdotto il principio di interoperabilità tecnologica la soluzione proposta potrebbe andare in direzione della norma portando di fatto una forma di interoperabilità dei dati suggerendo al legislatore una modifica della norma attuale verso una soluzione più facilmente attuabile e che preserva il patrimonio di dati associato al cliente dalla telematica un ruolo centrale nel ramo auto permetterebbe alle assicurazioni di conoscere lo stile di guidare i propri clienti come sono in grado di fare i carmaker analizzando i dati sarebbero in grado di valutare le preferenze dei propri clienti come fanno i gaffa e potrebbero personalizzare le proprie offerte in puro stile insurtech collaborando a livello di settore poi sarebbero in grado di avere un ritorno superiore sui propri investimenti e non perdere i dati in caso di perdita del cliente ringrazio tutti per l'attenzione da parte mia da parte di via sat group